dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa, in qualità di testimoni prestano giuramento i Sottosegretari di Stato nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021. Giurano come Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Mendola, Deborah Bergamini, Franco Gabrielli, Simona Flavia Malpezzi, Assuntela Messina, Rocco Giuseppe Moles, Dalila Nesci, Bruno Tabacci. Giurano come Sottosegretari per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Marina Sereni, Benedetto della Vedova, Maglio Di Stefano. Per l'Interno Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo Sibilia. Per la giustizia, Anna Macina, Francesco Paolo Sisto. Per la difesa, Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli. Per l'economia e le finanze, Laura Castelli, Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra, Alessandra Sartore. Per lo sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, Alessandra Todde, Anna Ascani. In Roma, nel giorno 1 marzo, dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa, in qualità di testimoni, prestano giuramento i Sottosegretari di Stato nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021. Giurano come Sottosegretari per le politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni, Gianmarco Centinaio. Per la transizione ecologica, Ilaria Fontana, Vagna Gava. Per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, Alessandro Morelli, Giovanni Carlo Cancelleri. Per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto, Tiziana Nisini. Per l'istruzione, Barbara Floridia, Rossano Sasso. Per la cultura, Lucia Borgonzoni. Per la salute, Andrea Costa, Pierpaolo Sileri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli, pronuncerà ora la formula di giuramento alla quale tutti i Sottosegretari risponderanno, giuro. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.